Signori, eccomi qua. Che dire? Anche se io la sera le piglio belle, che problema c'è? Innanzitutto fammi dare una pettinata che è meglio. Non si può stare a parlare qui e stare tutti così struffati. Una pettinata ci sta bene. Quindi, ritornando a noi, anche se io la sera le piglio belle perché le scolo una bella bordolese di vino rosso, che problema c'è? Io non ho problemi. Io ho risolto il problema della radice. Venite con me e vi faccio vedere come ho fatto a risolvere il problema della radice. Dov'è il problema? Non ci sono assolutamente problemi. Perché smettere di bere quando c'è la possibilità di risolvere il problema? Io, come potete vedere, ho un letto basso. Quindi non ho assolutamente problemi. Anche se la sera le piglio belle, ci possono arrivare anche carbone. Anche a quattro zampe. Ma chi cazzo se ne frega? Eh? Anche a quattro zampe.